Un cordiale saluto amici e amiche, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo. Ebbene, abbiamo ancora a che fare con perturbazioni atlantiche, ce le mostra anche il satellite, un vasto fronte che va ad impattare sull'arco alpino e l'Europa centrale. Queste correnti da nord-ovest saranno ancora protagoniste nei prossimi giorni su buona parte d'Italia, saranno responsabili di tanti altri temporali anche all'esordio di giugno. Il tempo per questo giovedì è complessivamente stabile su tutto il sud, in parte le regioni centrali. Sull'Abruzzo, mattinata poco nuvolosa o serena, quindi direi abbastanza gradevole, dopodiché nel pomeriggio possibilità di qualche improvviso equazione o scrocio di pioggia sul Terramano, l'Alto Aquilano, però nel complesso fenomeni molto disorganizzati di breve durata. Altrove qualche nube in più, ma senza conseguenze ben di nota. Temperature stazionari alle massime tra i 21 e i 25 e i 26 gradi. Con questo concluso, ci rivediamo nel prossimo appuntamento, sempre qui su TV6.